la scuola dell'infanzia del quarto istituto comprensivo domenico costa di piazza unità d'italia apre le porte alle mamme e i papà dei piccoli che si apprestano ad iniziare il loro cammino scolastico per far conoscere la realtà di una scuola all'avanguardia tutti i giorni sarà possibile accedere alla struttura scolastica e accolti e accompagnati dalle docenti e dal personale visitare gli spazi confortevoli e funzionali conoscere l'organizzazione didattica e il programma delle attività previste dalla ricchissima offerta formativa rivolta ai bambini dai 3 ai 5 anni l'androne polifunzionale in cui i bimbi giocano e socializzano nei diversi momenti della giornata le aule ampie luminose che si aprono sugli spazi a verde della scuola l'aula delle storie la biblioteca recentemente inaugurata la mensa dotata di ampi spazi dove i bambini assistiti dalle docenti condividono l'esperienza dello stare insieme anche a tavola il giardino con la pineta e gli spazi a verde grazie a tutti 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 grazie a tutti